Grave incidente stradale alle 23.30 nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada A11 in Firenze-Mare in località Carraia. Una Nissan Micra stava procedendo in direzione Lucca quando ha tamponato un camion fermo sulla corsia d'emergenza, impattando violentemente contro il rimorchio del mezzo pesante. Le due persone a bordo dell'automobile sono morte. Si tratta di Salvatore Abbate e Luigi Balzano, entrambi cinquantenni, entrambi operai. Il primo nato a Napoli e residente a San Giorgio a Cremano, il secondo nato a Torre del Greco e residente a Pisciotta nel Cilento. I due uomini erano partiti alla volta di Genova dove avrebbero dovuto prendere regolarmente servizio in un cantiere navale. Balzano, per alcuni anni, si era arrangiato con altri lavori per stare vicino alla sua famiglia nella piccola frazione di Caprioli dove viveva con la sua seconda moglie. Da circa un anno, però, le ristrettezze economiche lo avevano spinto ad accettare un impiego che spesso lo teneva lontano da casa. Dopo la permanenza sui cantieri navali di Genova, l'operaio sarebbe dovuto tornare in paese per la festa dei 18 anni di uno dei suoi tre figli. Sconvolta la comunità pisciottana che lo ricorda come un uomo buono ed estremamente attaccato alla famiglia. La polizia stradale si sta occupando delle indagini che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, però, nessuna informazione più dettagliata. Grazie a tutti.